Quarta edizione della festa del pane e della pasta, la festa dell'unione, dell'amicizia, del coinvolgimento. La festa del pane e della pasta è una festa che coinvolge arte, sport, cultura e degustazioni. Oggi siamo presso una nuova azienda, una new entry, che per la prima volta partecipa a questa bellissima iniziativa. Fao 37, siamo a Tonnarella, il luogo che più mi rappresenta perché io abito qui da oltre 40 anni. Quindi ogni sera passo da qua, sbirciando vedo degli ottimi prodotti. Pesce fresco, il rosso di Mazzara, perché Mazzara è ancora oggi la capitale della pesca. Primo porto peschereccio d'Italia, quindi anche alla festa del pane e della pasta, la presenza dell'ottimo pescato di Mazzara del Vallo. Do la parola ai rappresentanti di questa azienda. Per Fao 37 sarà un piacere partecipare a questa manifestazione perché noi, come tutti i nostri colleghi commercianti, crediamo in questa iniziativa che è diventata una bellissima realtà che tutta la città e i paesi vicini aspettano. Noi cercheremo di usare questa occasione come nostro trampolino di lancio per farci conoscere, visto che da malappena un anno la nostra apertura. Porteremo alla festa del pane e della pasta la nostra frittura per cercare di valorizzare sempre di più quello che il nostro Mar Mediterraneo ci offre. Perfetto, adesso diamo la parola a un altro rappresentante dell'azienda che ci spiegherà i prodotti che porterete, questo ottimo pesce di qualità. Mazzara, ripeto, la prima flotta peschereccia ad Europa è stata un tempo adesso d'Italia, per cui questo pescato, la frittura di paranza, scommetto che porterete dell'ottima frittura. Portiamo sia la frittura di paranza che stiamo cercando di fare una frittura bella ricca di pesce, con pesce azzurro, spatola, cozze. Sicuramente sarà un successo perché oggi noi siamo qui dopo la conferenza stampa e abbiamo avuto modo di assaporare i vostri prodotti che sono di ottima qualità. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, c'è da aggiungere poco. Noi ci metteremo tutto l'impegno di usare sempre il prodotto serio che ci dà il nostro Mediterraneo, appunto FAU37 prende il nome del nostro mare. Quindi sarà questo il nostro motto. Infatti sarà la chiave vincente della vostra attività e sicuramente sarete abbastanza apprezzati perché la frittura attrae sempre tutti, soprattutto la frittura di paranza. La festa del pane accoglie diversi visitatori che arrivano da tutta la provincia, per cui è una bellissima vetrina. E io vi auguro veramente tutto il successo di questo mondo perché avete avuto il coraggio di aprire un'attività in un periodo di grossa crisi. E quindi che i giovani investono a Mazzara del Vallo per me è veramente una cosa eccezionale perché io credo nelle potenzialità di questa città e credo quindi che l'Unione fa la forza e se tutti insieme la festa dell'Unione, dico la festa del pane e della pasta, portiamo avanti la nostra città, che ben venga. Sarà sempre meglio vivere a Mazzara del Vallo. Grazie per la vostra presenza e per aver scelto la festa del pane e della pasta.